Nuova ondata di spesa sociale in comune a partire dalla prima tranche del 2017 a favore di Cremona Solidale per 351 mila euro destinati a coprire i costi dell'assistenza ai ricoverati e nei centri diurni per anziani e disabili, anticipando i soldi dell'integrazione delle rette a carico delle famiglie. Non tutti in tempi di precarietà di massa e reddito basso hanno 1.500 euro al mese per la retta media dell'ospizio, in attesa che il Consiglio Comunale discuta e approvi le linee strategiche di indirizzo della casa di riposo di via Brescia, il cui direttore generale intende dare una svolta decisa verso l'assistenza domiciliare tanto richiesta da anni. Proseguono gli interventi degli anni precedenti in mancanza di innovazione strategica sotto la continua pressione della richiesta di aiuto e servizi. Un'altra prima tranche da parte del direttore delle politiche sociali Lamberto Ghirardi per 7.000 euro riguarda gli incentivi all'inserimento lavorativo di disabili e persone svantaggiate. La Giunta, per quanto sollecitata dalle associazioni, non ha favorito in modo particolare l'inserimento dei disoccupati di lungo periodo gestiti dall'azienda sociale del Cremonese. 25.000 euro sono destinati all'inserimento di minori in comunità alloggio, altri 88.000 servono per pagare con ulteriore spesa pubblica parte delle rette dei disabili inseriti in residenze di urne. Molte famiglie da anni non reggono la crisi e il Comune paga. Per l'inserimento di minori o adulti con problematiche psicosociali in diverse strutture, il Comune ha erogato altre prime tranche annuali che superano complessivamente i 57.000 euro. È un flusso di spesa silenziosa ma impegnativa, che passa per gli uffici e di cui poco si sa. Luigi Amore, dal centro-destra, ha chiesto varie volte che la Commissione Welfare si riunisca e discuta di spese e servizi anche lodevoli, le cui procedure però restano nell'ombra, come per l'integrazione degli affitti, l'amorosità incolpevole o i buoni sociali. Fra gli ultimi provvedimenti, i 19.000 euro in buoni finalizzati a migliorare la salute e la qualità della vita di cittadini in stato di temporanea fragilità, in base a un contributo regionale. Anche questo intervento può essere molto apprezzabile, ma non è dato sapere quali percorsi segua la spesa, in questo caso disposto dall'Assemblea dei Sindaci del distretto del Cremonese. La Giunta, per mezzo dell'implacabile macchina della comunicazione istituzionale con i suoi mille comunicati all'anno, preferisce parlare di eventi culturali e attività di musei, ma la percezione di una crisi silenziosa e crudele resta acuta, come dimostra il mezzo milione speso in una settimana.